Buongiorno a tutti, sono Emily. Siamo in aprile e la previsore per la lunedì è c'è il sole. La previsore per la martedì è parte nuvoloso. La previsore per la mercoledì è piove. La previsore per la giovedì è nuvoloso. La previsore per la venerdì è tiero vento. Buongiorno a tutti.